Musica Pac e olivicoltura è stato questo l'argomento al centro dell'incontro organizzato da Confagricoltura Puglia a Bari con i parlamentari del territorio. L'assessore all'agricoltura della regione Donato Pentasuglia e i capigruppo al Consiglio regionale. Le prossime settimane saranno decisive per le scelte riguardanti l'applicazione della nuova politica agricola comune. Una riforma che secondo Confagricoltura Puglia ha un impatto devastante sulle culture mediterranee e in particolare sull'olivicoltura simbolo della Puglia. Durante l'incontro il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzaro ha messo in guardia dai rischi di una PAC che premia alcune zone del paese a danno di chi rappresenta più superficie agricola, più aziende agricole e a maggiore impatto sociale nell'utilizzo di mano d'opera. La Puglia è la regione italiana nella quale si assume più mano d'opera agricola, l'8,22% del totale di tutto il paese. Il settore impiega oltre 882 mila lavoratori agricoli e le giornate nell'olivicoltura occupano 90 mila lavoratori a tempo pieno. È fondamentale che si attivino tutti i meccanismi per arginare questo processo, sia per quanto concerne i pagamenti diretti che per quanto riguarda lo sviluppo rurale. Rimarca Confagricoltura. Abbiamo riscontrato un taglio importante del sostegno agli agricoltori, un taglio fino anche al 60% del contributo che attualmente percepiscono. E questo ovviamente è un danno importante per la nostra regione, una regione olivicola e l'olivicoltura è al centro di questo taglio. Ovviamente come Puglia non potevamo non reagire e chiamare all'appello tutti i parlamentari pugliesi. Ringrazio i parlamentari che si sono affiancati a noi e tutta la deputazione dei parlamentari pugliesi che andrà a fare pressione sul governo affinché ci siano due proposte. Due proposte che come Confagricoltura abbiamo costruito e studiato, condiviso anche con il presidente Gian Santi. Ci sono due proposte, una che è quella di incentivare e sostenere l'olivicoltura nella produzione, quindi un aiuto accoppiato per l'olivicoltura più significativo e più importante. Dall'altra parte un ecoschema per l'olivicoltura. L'olivicoltura non solo genera occupazione, abbiamo ricordato più volte 90.000 posti di lavoro, 30.000 persi già con la xylella, ma è anche una grandissima ricchezza per quanto riguarda il paesaggio e l'ambiente. E questo vogliamo che sia certificato all'interno della nuova politica agricola comune. Confagricoltura ha voluto fare questa iniziativa con la deputazione dei parlamentari che ringrazio perché ha dato disponibilità a lavorare insieme, ringrazio perché ha riconosciuto il grande sforzo e il lavoro che in questi giorni e in questi mesi abbiamo prodotto. Ecco, è il momento di non abbassare la guardia e provare a portare a casa, come abbiamo fatto nei mesi scorsi, il miglior risultato che non mortifichi le eccellenze e il lavoro fin qui svolto. Lo scorso 4 dicembre si è tenuta presso il Teatro Garibaldi di Lucera la cerimonia di premiazione dell'edizione 2021 del premio letterario Daunia e Sagno. Il premio è giunto alla seconda edizione. Per la prima volta la cerimonia di premiazione è avvenuta in presenza. La scorsa, a causa delle restrizioni anti-covid, si era tenuta in videoconferenza. Per l'edizione 2021 il consiglio direttivo dell'associazione Daunia e Sagno ha deciso di affiancare all'iniziale sezione di narrativa anche una di poesia. I partecipanti al premio sono stati circa 200 appartenenti a quasi tutte le regioni italiane e anche a paesi esteri. Le migliori 40 opere di narrativa e le migliori 11 poesie selezionate da due specifiche qualificate giurie troveranno collocazione nell'antologia del premio pubblicata a conclusione della manifestazione 2021. Il premio letterario Daunia e Sagno è inoltre affiancato dal premio alla carriera che quest'anno è andato a Rocco Capozzi, professore merito dell'Università di Toronto in Canada, originario del comune di Deliceto. Lo scorso anno il premio alla carriera e alla memoria era stato assegnato al professor Francesco Paolo Marasca, originario di Troia. Il premio Daunia e Sagno si avvale del patrocinio della regione Puglia e dei comuni di Lucera, Deliceto, Faeto e Casalvecchio di Puglia. Con l'arrivo delle festività natalizie, il CIF Centro Italiano Femminile di Lucera ha organizzato il mercatino di beneficenza presso la sala espositiva di Piazza Nocelli, le signore del CIF hanno allestito quanto realizzato con le loro mani, il cui ricavato va all'acquisto di beni di prima necessità destinati a famiglie indigenti del posto. Lavori fatti a mano, dolci fatti in casa, liquori di produzione domestica e creazioni con materiali riciclabili sono andati a ruba già dai primi giorni. In vista del Natale 2021, per le signore del CIF, quella del mercatino è un'iniziativa che torna dopo la pausa Covid per unire creatività e solidarietà. Lo scorso 4 dicembre si è tenuta presso il Teatro Garibaldi di Lucera la cerimonia di premiazione dell'edizione 2021 del premio letterario Downy e Sagno. Il premio è giunto alla seconda edizione. Per la prima volta la cerimonia di premiazione è avvenuta in presenza. La scorsa, a causa delle restrizioni anti-Covid, si era tenuta in videoconferenza. Per l'edizione 2021, il consiglio direttivo dell'associazione Downy e Sagno ha deciso di affiancare all'iniziale sezione di narrativa anche una di poesia. I partecipanti al premio sono stati circa 200, appartenenti a quasi tutte le regioni italiane e anche a paesi esteri. Le migliori 40 opere di narrativa e le migliori 11 poesie, selezionate da due specifiche qualificate giurie, troveranno collocazione nell'antologia del premio pubblicata a conclusione della manifestazione 2021. Il premio letterario Downy e Sagno è inoltre affiancato dal premio alla carriera, che quest'anno è andato a Rocco Capozzi, professore merito dell'Università di Toronto in Canada, originario del comune di Deliceto. Lo scorso anno il premio alla carriera e alla memoria era stato assegnato al professor Francesco Paolo Marasca, originario di Troia. Il premio Downy e Sagno si avvale del patrocinio della regione Puglia e dei comuni di Lucera, Deliceto, Faeto e Casalvecchio di Puglia. Il premio Downy e Sagno si avvale del patrocinio della regione,